Oggi nella giornata internazionale contro la violenza alle donne, siamo proprio qui in piazza per testimoniare questa vicinanza alle donne vittime di violenza. Questa vicinanza che non è volta solo a ricostruire i fatti dal punto di vista investigativo, che per noi è importante, ma anche una vicinanza volta ad aiutare la donna a superare il trauma che ha subito. I nostri militari sono formati e specializzati in questo senso, abbiamo anche delle strutture adatte, come delle sale protette in cui sentire queste donne, in cui anche i minori possono essere chiamati a testimoniare per le violenze che hanno visto o subire dalla loro madre. Sono delle sale in cui l'ambiente è data importanza al contesto e quindi l'ambiente è creato proprio per mettere la donna in una situazione di maggior fiducia per farla sentire a suo agio.